E' entrato nella fase Clou, il quarto round del campionato italiano velocità montagna di Alghero Scalapicada. La gara sarda, alla sua 59esima edizione, vede 68 correnti iscritti, rappresentando una vera e propria ripartenza dello sport automobilistico della regione. Regione Sardegna, con assessorato allo sport, comuni di Alghero, Fondazione Alghero e Camera di Commercio di Sassari, hanno messo in campo le Forze Unite per sopportare un evento che è riconosciuto come importante vetrina. Al termine delle prime tre gare nella classifica assoluta è Merli al comando, con 55 punti, seguito da Fagioli e De Gasperi. Mentre tra le scuderie è la Best Lap al comando, seguita da Vim Motorsport e Speed Motor. La Alghero Scalapicada chiuderà oggi i battenti.